Musica Benvenuti all'appuntamento con la nostra pagina sportiva. Apriamo subito con l'Arezzo. Si definisce il programma delle ultime amichevoli dell'Arezzo. Domani, mercoledì, 24 agosto, incontro con il Figline e sabato con la Lucchese. Per l'esordio in campionato, confermato l'anticipo della prima partita d'Orvieto al 3 settembre. Domani, mercoledì, amichevole con il Figline e sabato con la Lucchese. È il programma dei prossimi impegni dell'Arezzo. L'allenamento congiunto al comunale contro i Valdarnesi inizierà alle 16, mentre quello di sabato contro i Rossoneri avrà il suo fischio di inizio alle 15.30. Due nuove verifiche quindi per la squadra di indiani. La quale sta mostrando segnali di crescita consistenti. Per la gara colorvietana allo stadio Ciconia nella prima di campionato, c'è da pensare che il livello di condizione degli Amaranto sia ancora migliore. Con gli Umbri nel debutto stagionale si giocherà sabato 3 settembre alle 15.30. L'anticipo porterà benefici a entrambe le formazioni. L'Arezzo sarà seguito da un buon numero di sostenitori e sarà quindi evitata la concomitanza con la giostra del Saracino, dando modo a molti appassionati Amaranto di assistere dal vivo al debutto stagionale dei loro beniamini. Una gara che si profila insidiosa. L'orvietana, che lo scorso anno ha vinto in grande stile il campionato di eccellenza Umbra, riconquistando la Serie D dopo dieci anni, è più di una semplice matricola. Nella trasferta di Grosseto in Coppa Italia, la formazione allenata da Gianfranco Ciccone ha vinto 1-0 con un gol di Tomassini. Un successo esterno meritato, frutto del buon lavoro compiuto in agosto. Una squadra determinata e che la partita in terra maremmana ne ha messo in luce la brillantezza di condizione. Un banco di prova superato bene, che tuttavia non illude l'allenatore orvietano. È vero che l'obiettivo dell'orvietana rimane la salvezza, ma la squadra sta dimostrando di avere fame e voglia di dimostrare il suo valore. Quella di Orvieto per l'Arezzo sarà dunque una partita da prendere con le molle, ma di questo indiani i suoi ragazzi sono perfettamente consapevoli. E con l'inizio della nuova stagione sportiva, l'Arezzo ha deciso per una gestione interna dell'area marketing. La referente sarà Alessandra Severi, già presente nella stagione 2019-2020 nell'organigramma Maranto. L'Arezzo si legge in un comunicato e ritiene di aver intrapreso in relazione alla presenza di nuove figure professionali un percorso che interesserà sia i partner già presenti che i nuovi. L'intento e la volontà del club Maranto sono quelli di instaurare un rapporto di vicinanza e collaborazione con le realtà imprenditoriali a retine che vada oltre la semplice sponsorizzazione. E Coppa Italia sfortunata per il Sansepolcro. La squadra bianconera gioca una buona partita, ma esce sconfitta nel match con il Lama San Giustino. Lama Sansepolcro prima di Coppa Italia finisce con la vittoria dei bianconeri del Lama per 1-0 con il tecnico del Sansepolcro Antonio Armillei. Come giudica la prestazione del Sansepolcro? Secondo me c'è stata una grandissima prestazione. C'è l'amarezza e la delusione per il risultato, però c'è anche la consapevolezza di aver fatto, secondo me, un grosso primo tempo. E comunque anche rimanendo in dieci la squadra ha comunque continuato a giocare e ha creato delle opportunità. Ma ripeto, dispiace il risultato, però ho visto una squadra ben messa in campo, che sapeva quello che faceva sul campo, quindi questo è lo spirito giusto che ci deve contraddistingue da qui in avanti. Mister Guido Vicarelli del Lama può essere soddisfatto, ha ottenuto il massimo risultato dalla sua formazione e d'altra parte chi ben comincia, come si suol dire, è a metà dell'opera. All'inizio è importante vincere, poi con calma arriverà a condizione e arriverà a gioco. Abbiamo fatto solo due amichevoli, ma aspettavo che magari avremmo sofferto un po' fisicamente, però è tutto nei programmi perché stiamo lavorando molto bene, stiamo contenendo anche le problematiche muscolari, quindi volevamo che fosse così la partenza pur rischiando qualcosa. Vince chi la butta dentro, penso che Luca Bartoccini abbia fatto un gol fantastico e quindi comunque noi ci prendiamo il merito di aver fatto un gol, loro hanno avuto diverse occasioni, non l'hanno sfruttata e noi ci prendiamo questa vittoria. E nuova avventura per Stefano Butti, Butti che ha il primato di presenza in maglia Maranto ed è anche il presidente del Museo Maranto, il nuovo responsabile del settore giovanile della Tuscar. La storica società retina, presieduta da un altro ex amaranto, Fulvio Rondini, ha una prima squadra che partecipa al campionato di terza categoria e sette formazioni del vivaio. Vorrei insegnare ai ragazzi l'amore per il calcio e la conoscenza della tecnica di base, ha detto Butti. E torna al lavoro anche la SBA, cambiamo argomento, cambiamo soprattutto sport, la squadra retina presenta un organico rinnovato in vista della stagione che sta per iniziare. Vacanze finite per l'Amenesco, la Basca e Terrezzo, che ha ripreso la preparazione in vista degli impegni ufficiali della stagione sportiva 2022-2023. La formazione a Maranto parteciperà per la quarta volta consecutiva al campionato di Serie C Gold in panchina, confermatissimo Marco Evangelisti, coadiuvato da Stefano Liberto che torna nella veste di vice allenatore dello staff della SBA. A curare la parte di preparazione fisica ha confermato Simone Marracini. Diverse le novità in rosa rispetto alla scorsa stagione. Attorno al nucleo storico di giocatori aretini non ci sarà più Matteo Cutini, confermato invece Daniele Rossi. Sono arrivati Federico Fornara, Igor Veselinovic, Cosimo Peluchini e Samuel Lici. Alla squadra saranno poi aggregati alcuni rialzi del vivaio. Il primo appuntamento ufficiale sarà l'esordio in Coppa Toscana, previsto per il 10 settembre al palestra con la Synergy, mentre il campionato è programmato per il primo weekend di ottobre. A Santa Croce sull'Arno c'è grande entusiasmo per la Chemas che si appresta ad affrontare il campionato di A2. Parla il coach Mastrangelo. Vincenzo Mastrangelo, nuovo allenatore della Chemas Lampimel, della Chemas Lampimel, lupi pallavolo, serie A2, ma ha fatto 9 stagioni in A1, 16 in A2, miglior allenatore della stagione. Hai vinto il campionato di A2 e la Coppa Italia. Cosa possiamo dire? Il direttore generale ha detto non ci nascondiamo, puntiamo la Superlega. Subito così partiamo. Puntiamo a fare bene. Quanto dipenderà da noi, dipenderà da tanti fattori durante una stagione. Adesso nessuno pensa più al Covid, ma sicuramente avremo a che fare di nuovo con questo problemino. dobbiamo essere pronti ad affrontarlo nella maniera giusta, come abbiamo fatto l'anno scorso noi dall'altra parte. Però poi dipende da tante cose. Una stagione non è solo il risultato del lavoro che facciamo qua dentro, ma è il risultato del lavoro che facciamo nello spogliatoio, che facciamo nella sala video, che facciamo fuori dal palazzetto ognuno, avendo un comportamento da professionisti quali siamo. e questo sarà compito mio, cercare di portare questo gruppo di ragazzi giovani, qualcuno un po' meno, qualcuno tanto giovane, con tanto margine, perché secondo me questa squadra ha tanto margine per migliorare e dobbiamo avere dentro di noi la voglia di migliorare giorno dopo giorno, ma non di migliorare individualmente, di far migliorare il compagno. Il segreto sarà quello, cercare di migliorare il compagno e poi dopo sarà il campo a dire quanto saremo stati bravi, quanto saremo stati meno bravi. Sì, quello che abbiamo fatto, che ho fatto l'anno scorso, nessuno me lo toglierà mai, ma è quello che farò quest'anno che conterà. Ed è tutto per la nostra pagina sportiva, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Grazie a tutti.